Giro Sapere, questa settimana è dedicato al tema, gli amici di papà. L'amicizia è la cosa più bella. Infatti, mio papà ha tanti amici che non lo lasciano mai solo. Quella vecchia questioncina. E poi gli amici di papà sono così gentili, si ricordano tutti i miei compleanni. Fanno tante gite in macchina con noi. E la questioncina. Settimana prossima. E quando vengono a casa, o giochiamo al mercatino, o giochiamo a cucursette. Oppure papà paga i suoi amici per toccare a carte con lui. È proprio simpatico il mio papà. Ogni giorno trova nuovi amici con cui giocare. Siamo venuti a comprare la prigiaula. Perché la rucola ce l'hai già venduta. Dedica un po' di tempo anche a tuo padre. Non pensare solo a giocare. Tuo papà ha bisogno di più.